vediamo la difesa filidor in questo video la difesa filidor com'è e4 e5 cavallo f3 d6 del lero quindi lero gioca la mossa più normale difende il pedone con un pedone che è la difesa più solida più definitiva del pedone il difetto qual è che blocca l'alfiere in f8 quindi l'alfiere di re farà fatica a uscire a svilupparsi anche se poi non è detto che questo sia un problema perché può svilupparsi in seguito il bianco come reagisce di solito gioca d4 che è considerata la mossa più forte giocata da morfi per primo un'alternativa forte anche è alfiere c4 quindi il bianco può anche giocare alfiere c4 che è un'altra variante molto giocata contro la filidor una mossa normale anche questa che punta sulla diagonale debole sulle case bianche quindi su f7 però appunto la più giocata è d4 ora qui c'è una famosa partita di morfi in cui il nero e i suoi avversari giocarono alfiere g4 che è una mossa anche questa abbastanza normale se si cerca di inchiodare il cavallo quindi sembrerebbe una mossa per difendere 5 per cui il bianco sembrerebbe che non possa catturare il pedone con grande vantaggio perché perché segue la presa in realtà non è così perché sulla presa il bianco ricattura e dopo la cattura alfiere c4 e si mantiene la pressione su f7 infatti poi questa famosa partita di morfi vinse morfi portando poi anche la donna in b3 eccetera comunque è una posizione che favorisce il bianco perché se guardiamo questa posizione adesso il bianco ha due pezzi sviluppati contro nessuno del nero quindi è già in vantaggio di due tempi per cui torniamo indietro alfiere g4 non è una gran difesa da parte del nero la difesa più giocata invece è cavallo f6 che oggi è considerata la migliore che è stata giocata da molti giocatori il primo a giocarla con una certa frequenza è stato nimzovic se non sbaglio comunque diciamo che nimzovic ha fatto molte partite con la filidor e giocava anche cavallo f6 la terza mossa quindi questa è la variante più giocata adesso il bianco può a varie scelte sono tutte abbastanza valide può per esempio anche proteggere il pedone con cavallo c3 semplicemente conservando un vantaggio di sviluppo e di spazio al centro e poi si gioca la partita quindi questa è la filidor in generale l'alfiere camposcuro generalmente poi andrà sviluppato in e7 eccetera un'altra cosa sempre su d4 esiste anche un'altra possibilità a dire il vero oggi meno giocata che è cavallo bd7 che è la variante anam si chiama anam o anam non so come si dica ecco questa è una variante giocabile anche questa che però non è semplicissima da giocare ci sono alcuni problemi la diagonale è debole ci possono essere poi delle combinazioni donna d5 dei problemi comunque è una variante giocabile anche questa bene questa è la filidor in generale poi nei prossimi video se li faccio chiarirò magari anche meglio le varianti prenderemo magari una e la vediamo grazie a tutti grazie a tutti